Sembra ieri quando l'ha compianto Edoardo Tiboni, inventore dei prestigiosi premi Fraiano, arringava la stampa sulle distrazioni, per così dire, istituzionali, nei confronti di uno degli eventi culturali più prestigiosi d'Abruzzo e non solo. A distanza di decenni ora è il compito, passa la figlia Carla, presidente della Fondazione Tiboni, ricordare con estremo garbo che cosa significa questo evento non solo per l'Abruzzo, ma per l'Italia, in parte per il mondo, sottolineando con disappunto che dal recente bilancio regionale approvato nei giorni scorsi non risulta esserci alcun riferimento a finanziamenti pubblici. Noi abbiamo appreso dai giornali ieri che la legge di bilancio non prevedeva alcun finanziamento per i premi Fraiano a fronte invece di altri finanziamenti che sono stati dati da associazioni e premi così come tutti abbiamo appreso dai quotidiani. Noi chiediamo alla Regione il motivo di esclusione dei premi Fraiano e quali siano stati i criteri per essere inclusi o esclusi dai finanziamenti. Già avere questa risposta per noi sarebbe importante perché i premi Fraiano hanno bisogno di finanziamenti come tutte le realtà culturali, ma soprattutto è una macchina organizzativa che parte a gennaio e quindi necessita anche di conoscere ciò su cui potrà basare il proprio investimento per la manifestazione o meno. Ci auguriamo che sia una semplice svista, che il Fraiano possa rientrare in qualche modo nei finanziamenti della Regione, che la Regione sia presente per la 47esima edizione dei premi. Le rassicurazioni giungono tempestive dal Presidente e Vicepresidente del Consiglio regionale Sospiri e Pettinari, dallo stesso Assessore Febo che parla di un capitolo a parte dedicato al Fraiano, mentre tempestivo anche l'intervento del Sindaco di Pescara Masci in difesa della manifestazione. Noi siamo rassicurati dalle parole di persone che rappresentano i vertici della Regione, quindi sicuramente ci saranno dei contatti con l'Assessorato alla Cultura e speriamo e auspichiamo che ci sia questo finanziamento della Regione per la nuova edizione.